Ci vorrebbe un libro intero per descriverlo, ma me la sentirei di sottoscrivere la tesi di un Berlusconi volontariamente perseguitato dalla giustizia. Parliamo di parecchi anni fa, l'incontro fu provocato dall'Avvocato Ghedini che a quell'epoca coordinava le difese del Presidente Berlusconi, l'Avvocato Ghedini mi aveva chiesto di intervenire in un processo in grado d'appello, era un processo che si era concluso negativamente in primo grado, era uno dei tanti processi rubi, quindi andai ad Arcore e così avvenne la conoscenza con il Presidente Berlusconi, quindi il motivo è stato un motivo di carattere professionale. Berlusconi aveva nei confronti degli Avvocati che lo assistevano in quel periodo, tra cui anche chi vi parla, aveva fiducia e quindi non era un cliente ansioso, non era un cliente assillante, naturalmente commentava i fatti e quando è stato condannato per la nota unica sentenza in cui è stato condannato, certamente il suo disappunto fu forte anche perché era convinto di aver patito un'ingiustizia come probabilmente è stato, però direi il rapporto professionale è perfetto proprio perché ti lasciava fare. è una condanna che non abbiamo digerito, ormai è una condanna definitiva, c'è stata solo quella condanna, per il resto c'è stata prescrizione, sì qualche prescrizione ma non era colpa sua se i processi duravano secoli, per il resto Berlusconi sono stati processi lunghi, processi fastidiosi, ma si erano tutti conclusi favorevolmente, è vero che adesso i pubblici ministeri avrebbero potuto proporre appello o meno, ma comunque una alla volta i processi andavano a posto e le sentenze sono state di assoluzione. Non me la sentirei di sottoscrivere la tesi di un Berlusconi volontariamente perseguitato dalla giustizia. Io ho su questo le mie idee, io non sono un dietrologo, non sono abituato a pensare a complotti eccetera, ho ancora, nonostante tanti anni e nonostante delusioni, continuo ad avere fiducia nella giustizia e nella magistratura, non posso pensare a magistrati che organizzino attività giudiziarie contro questo o contro quello per perseguire un obiettivo che con la giustizia non ha nulla a che vedere. Parto dall'idea che vivendo in collettività puoi essere chiamato a rendere conto di quel che hai fatto, un personaggio come Berlusconi impegnato su tanti fronti può aver dato occasione a magistrate di proporre e di iniziare azioni giudiziarie nei suoi confronti, non ne voglio pensare neanche lontanamente all'idea di un complotto, che poi queste situazioni possano essere state sfruttate ed impiegate contro Berlusconi da parte di altri sul terreno politico, questo fa parte un po' delle regole del gioco. Mi ha telefonato una persona che era molto vicina alla famiglia Berlusconi, pochi minuti dopo che era successo ero in udienza e ho avuto questa triste notizia. Io sono un profano in medicina però se considero che Berlusconi aveva organizzato un incontro con i suoi collaboratori per sabato che è stato ricoverato il venerdì e che quindi questo incontro non si è potuto tenere, capisco la spiegazione dei medici di un incontro programmato ma se era programmato era un po' strano che Berlusconi potesse per il sabato convocare una riunione che avrebbe inevitabilmente dovuto disertare se venerdì doveva ricoverarsi in clinica e quindi questo non faceva ben sperarlo, per lo meno comunque faceva pensare, faceva ritenere che ci fosse qualcosa di particolarmente grave, che poi la situazione si è precipitata così nel giro di due o tre giorni, questo francamente nessuno se lo aspettava, si temeva una possibilità del genere ma certo la fine è stata repentina. Comunque lo si voglia giudicare, certamente è un uomo che ha attraversato la storia del nostro paese da protagonista per oltre 30 anni e ci vorrebbe un libro intero per descriverlo, una personalità ricca di tante sfaccettature e quindi ognuna avrebbe meritato un approfondimento o un commento. Certamente sul piano dei rapporti personali è un uomo molto piacevole, dotato di grande senso della ospitalità, di grande generosità, quindi sotto questo punto di vista gli incontri, anche se erano motivati quasi sempre da ragioni di carattere professionale, erano degli incontri assolutamente piacevoli, tanto è vero che quando poi ci incontravamo per parlare delle sue cause, il discorso causa veniva liquidato in 5 minuti e poi si parlava o meglio lo ascoltavamo per parecchio tempo, passeggiare da questo a quell'altro argomento con grande disinvoltura. Bartelletta a parte perché quello è un tema che non abbiamo praticato due temi, il tema Bartelletta e il tema sport, anche perché forse conosceva la mia fede romanista e quindi non ci saremmo facilmente incontrati su quel terreno e quindi lo abbiamo sempre evitato. Aveva anche scoperto che avevo un debole per le cravate e quindi alla fine la visita quasi sempre si concludeva con il regalo di una scatola di cravate, me la faceva arrivare lì e così le guardavamo insieme, le commentavamo insieme, sempre molto bella. Ne avevo già tante di mia e lui ha certamente contribuito con la disperazione di mia moglie a crescere il numero delle cravate negli armadi.